Allora, cosa che stai facendo? Stai organizzando la festa per il baby shower? Sì. Ma di chi? Di piccolo, ma sicuro? Come si chiama? Non lo dico. Ma cosa si fa durante questa festa? Niente, questo giorno sono nascita. Per i regalini? Regalini vabbè. Ma in un posto all'aperto o in casa? Vediamo come il tempo. Ma sappiamo chi invitare? Sì, guarda, questo tu ti vieni. Ma io o no? Sì. Ti hai Marco, Alice, Monica, Marco Ranieri, Raineri. Fabrizio Corona e la sua compagna Sara sono in pieno fermento per organizzare il baby shower in vista dell'imminente nascita del loro bambino. L'evento, che si preannuncia speciale, è già tesissimo dagli amici e familiari, con una lunga lista di invitati che cresce giorno dopo giorno. Tutti sono in trepidante attesa di scoprire come sarà questa festa, che promette di essere un'occasione di grande celebrazione. Fabrizio, noto per la sua personalità esuberante, è coinvolto attivamente nei preparativi e contribuisce alla stesura della lista degli invitati, seppur con la sua solita dose di ironia. Non mancano battute e momenti divertenti durante l'organizzazione, ma la coppia sembra concentrata nel rendere questo evento memorabile. Il baby shower sarà sicuramente un momento di gioia e condivisione, in cui amici e familiari si riuniranno per festeggiare l'arrivo del piccolo. Fabrizio e Sara stanno curando ogni dettaglio, rendendo l'attesa per l'evento ancora più emozionante per tutti i partecipanti.